Magnifico di libertà abito, è la libertà agli attaccamenti che nasce dalla pratica della meditazione zen, senza confini di gioia campo, è la gioia che nasce dalla pratica spirituale, dall'essersi puliti dentro, della parola dei maestri e della pratica, il significato ti fa capire, salva e libera l'essere umano, da che sa che... Ndai sai geda pukum, un sò pukute, i buri urai ghiom, kodom, Ndai sai geda pukum, un sòpute da giera, è i buri urai ghiom e disse Zen è la base di tutte le arti, qualsiasi arte uno pratichi, se incontra una meditazione Zen, la sua arte migliore. Lo Zen è una metodologia della coscienza, una tecnologia dello spirito, ha la capacità di creare il vuoto e ci mette in una condizione di stare bene con noi stessi e con gli altri. Zen e arti marziali hanno lo stesso soccorso. La nostra scuola è basata su tre livelli, salute, benessere e efficacia. La salute attraverso gli esercizi di Qigong lavoro sull'energia, sull'energia primordiale, tutto basato sulla respirazione e sulla concentrazione di tutto quello che avviene nel nostro interno attraverso queste respirazioni. Il benessere è la trasmissione di questa energia dapprima nei movimenti lenti della danza dell'energia, che ha una compensazione di energia tra un essere umano all'altro. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.